E' un pump incredibile quello di ETH in questa settimana, più 31,38% in questo momento, è solo l'inizio di una fase epocale per quanto riguarda Ethereum e la rivincita della regina delle crypto. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, una edizione speciale questa di domenica per quanto riguarda il pump che stiamo vedendo in questo momento. Non è soltanto Ethereum che sta poppando alla grante, ma anche Bitcoin che si avvicina a quota 80.000 dollari, incredibile, vediamo se manterrà perché oggi è domenica i mercati, quelli diciamo standard sono chiusi in questo momento, ma Ethereum è incredibilmente al centro di un boom molto rilevante. Che cosa sta cambiando, quali sono le analisi tecnica, l'analisi ciclica relativa a questo rally di ETH per quanto riguarda il dollaro, ma anche qual è la fase ciclica e qual è il rapporto fra Ethereum e Bitcoin. Che è quello che ci interessa più di tutti per capire se sta iniziando la questione dello switch da Bitcoin ad Ethereum, di cui stiamo parlando da più di un anno e che stiamo aspettando da tre anni. Siamo all'alba di questo switch, siamo all'alba di una nuova fase possibile di un altcoin season, ne abbiamo parlato tantissimo nel canale. Oggi andiamo a fare analisi ciclica e tecnica di Ethereum sul livello che può raggiungere anche in short term e poi andiamo anche a ragionare sul grafico contro Bitcoin che è importantissimo per capire dove siamo, che cosa sta succedendo e dove siamo. Dire bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, io sono sempre a Dubai ragazzi, dovrei rientrare in Europa tra pochi giorni, ma mi raccomando lasciatemi un mi piace, non so se riuscirò domani a registrare il classico video del lunedì perché sarò in viaggio l'intera giornata. Adesso vediamo se aeroporti in giro riuscirò a registrare il video. Intanto spacchiamo alla grande direttamente con quanto riguarda l'analisi di Ethereum direttamente. Allora, incredibile ragazzi, più 31 e passa per cento, il breakout di questa settimana è quello più rilevante. È partito tutto dal breakout del livello, questo è un grafico settimanale di questo livello da 2800 dollari, che è il livello più importante per un'inversione classica, che si può anche vedere su un grafico normale fatto così, dall'inversione del classico livello come da atteggiamento nuovo ritrovato delle criptovalute. Questa enfasi nuovamente ritrovata, Ethereum distrugge praticamente questo livello di resistenza e distrugge anche il successivo che era fortissimo perché era dato dall'incrocio di queste due medie mobili che si stavano per incrociare al ribasso, sono la media mobile a 26 periodi e la media mobile a 52 periodi ed è pratica, sono le due medie mobili, quella annuale e quella semestrale e poi anche il livello precedentemente di supporto che era stato rotto nella settimana del 29 luglio. Incredibile questa fase rialzista, ma anche per il fatto che è rappresentata da una parte centrale di un nuovo ciclo teoricamente trimestrale lungo o semestrale molto corto da circa 120 giorni che è più o meno il ritmo che Ethereum sta tenendo negli ultimi periodi. Guardate qui, il ritmo è abbastanza evidente di questa struttura ciclica, vediamo se manterrà la stessa identica struttura ciclica dove siamo diretti. Allora, c'è da dire una cosa molto importante, il primo livello di short term target è intorno ai 3580 dollari ed è un livello accettabile, ma il superamento degli ATH del 2024 è nelle corde di questo rialzo con grandissima probabilità perché c'è anche un costrutto di natura ciclica sottostante che ci porta a dire che nei prossimi mesi Ethereum potrà tranquillamente, potrebbe tranquillamente rompere anche questo livello con estrema probabilità, sia a livello di analisi tecnica sia a livello di analisi ciclica. Allora, partiamo dall'analisi tecnica, il superamento di questo livello è la conferma, se avverrà a chiusura di questa settimana, sembra ormai praticamente scontato, lancia la prossima settimana ad essere una nuova candela verde che ha tutte le potenzialità di distruggere nuovamente anche questo livello di 3580 dollari e avvicinarsi in questa zona di questo rettangolo. Solo in questa zona secondo me troverà una vera resistenza per qualche giorno. Attenzione perché per molti potrebbe sembrare che da un rialzo del genere ci sia il pericolo di un down la prossima settimana consistente. Questo è sempre ovviamente possibile perché parliamo di atteggiamenti di mercato, quindi impossibile da prevedere con la precisione, come lente di ingrandimento. Però in realtà non è così scontato. Quando partono questi pump in realtà non è così scontato che si faccia dietro fronte. Anzi, è molto più probabile che le settimane successive, dopo un ciccischiamento, dura magari una giornata, due, quindi la chiusura di questa giornata di domenica, da domani in poi, parte un altro siluro verso la direzione. La stessa cosa che avete visto in questa zona, per esempio, ma che potete andare indietro nel tempo e rivedere su ETH diverse volte quando faceva questi siluri. Guardate qui, per esempio, no? Stessa identica atteggiamento, 1 e 2, ok? Poi dopo magari ha ritracciato, ma stava salendo a bomba da un sacco di tempo. Stessa identica cosa qui, guardate, bom bom bom. Stessa cosa qui, bom bom bom. Allora, quando partono, anche qui, stesso identico atteggiamento. Attenzione che non vuol dire che non ritraccia un pochino, no? Magari la shadow ribassista la può comunque andare a creare perché è una possibilità, anzi, insomma, sarebbe meglio, no? Che non vada direttamente a salire, ma che fa magari un leggero ritracciamento verso questa parte magari della candela, ma non vi aspettate magari che ritorna indietro a fare il pullback dei 2.800 dollari, perché se fa una cosa del genere è più probabile chiamare un fake breakout piuttosto che un pullback. Quindi l'atteggiamento che probabilmente avrà, se vuole continuare questo rialzo la prossima settimana, è quello di fare un leggerissimo, una leggerissima shadow e poi tornare a spingere come una Ferrari a 600 cavalli verso questo livello di target. Short term target, quindi, per quanto riguarda Ethereum, è senza ombra di dubbio i 3.600 come primo livello. Poi abbiamo la questione della ciclicità. Allora, Ethereum da questo punto di vista, a livello di analisi ciclica, è entrato in un nuovo ciclo annuale dal minimo che abbiamo raggiunto la settimana del, probabilmente, settembre, anche in questo caso, o agosto, quindi se ragioniamo in termini di ciclicità sulle shadow dovrebbe essere la settimana d'agosto. A me piace di più, ve lo dico in maniera molto chiara, la settimana di settembre, perché mi piace ragionare in termini delle close, poi quando guardiamo grafici così lunghi ha più senso. Quindi per me anche la questione del battito, no? A 100 e passa giorni è più regolare. Io spingo per un annuale iniziato nella settimana di settembre, la prima. Questo significa che questo movimento, ragazzi, questo movimento da 100 e qualcosa giorni è il primo del nuovo annuale di ETH, che tra le altre cose non è solo un nuovo annuale, ma probabilmente ha anche una struttura legata agli ultimi due annuali che servono a questa criptovaluta per andare a concludere il suo naturale ciclo, che noi chiamiamo ciclo dell'albing di Bitcoin, ma il ciclo quadrinale che le cripto fanno da sempre. Poi magari cambieranno, magari no, ma questo lo scopriremo poi, come si dice, più avanti nel tempo a proposito. Ragazzi, lasciatemi i pollicioni per questo video, perché sto registrando veramente in situazioni critiche di emergenze, ma non potevo non fare un video del genere in questo momento. Pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, è estremamente importante. E mi date una mano, spingiamo tutti insieme anche in questa fase a divulgare informazioni di qualità. Per quanto riguarda quindi questa zona qui, la sua naturale fase di chiusura è prevista per la fine di dicembre, quindi teoricamente potremmo ancora spingere per fare i massimi di questa fase e poi andare a chiudere questo ciclo. Ma attenzione, perché dopo questo ciclo qui, dopo dicembre, abbiamo ancora spazio per fare nuovi massimi, quindi secondo me il tentativo di raggiungere nuovi ATH di Ethereum è nelle corde di questa criptovaluta, anche a livello ciclico. Ne parleremo più approfonditamente anche nei prossimi video. Ora io vorrei passare però alla questione più importante, la scelta che noi abbiamo. Switch, Ethereum Bitcoin, sì o no? Passo ad Ethereum perché adesso ci sono più potenzialità. Dopo aver calcato Bitcoin, tutto quello che abbiamo fatto, dopo aver protetto tutto, quelli che sono i portafogli nei tre anni in cui Ethereum è stato più ribassista, è il momento di sguicciare una parte di Bitcoin, sì o no? È un unico grafico che ci dà questa informazione, ed è il grafico Ethereum Bitcoin, di cui io vi parlo praticamente da sempre, ragazzi, che abbiamo ottenuto come grafico che ci dava il là per entrare nel concetto della partenza di un eventuale alt-season, sì, alt-season, no. Questo grafico è arrivato ad un punto di svolta estremamente rilevante da un punto di vista ciclico, ma l'analisi tecnica ancora non conferma. Nessuna inversione di tendenza rilevante ci dice che qualcosa può essere in fase di cambiamento, ma che non è una cosa già avvenuta, quindi ancora ci vuole tempo. Partiamo dall'analisi tecnica, che è quella, diciamo, tra virgolette, non negativa, ma non estremamente entusiasmante, poi passiamo all'analisi ciclica di questo grafico, che invece ci dà un'idea che può essere molto, molto rilevante. Ci sono due time frame che dobbiamo guardare, quello che è relativo all'analisi di natura weekly e quello di natura daily, quindi primo time frame, quello daily, ci dà un'informazione. Siamo arrivati all'inversione di breve di questo trend che era ribassista, che continuava, vedete, da settembre. Tutto questo trend ribassista al superamento dell'ultimo swing, che era 0,04, confermato dalla chiusura di ieri, sancisce sostanzialmente l'inversione del trend di Ethereum contro Bitcoin in termini di breve periodo. Quindi, senza un bravo di dubbio, qui è iniziato un nuovo ciclo, probabilmente trimestrale, di Ethereum contro Bitcoin. È vero che lo snodo principale si avrà anche sul time frame daily dal superamento di 0,043, che è un livello più importante. Però, ovviamente, attendere questi livelli a volte non è proficuo in termini di strategie di trading, che un pochino devono essere anticipatorie di alcuni movimenti. un po' di rischio dobbiamo comunque assumerlo. Non è possibile avere esenzione dal rischio anche in questo tipo di atteggiamento. Dovete essere sempre in grado di gestire lo stop loss, training stop, e tutti quelli che sono le gestioni del rischio. Per questo, ragazzi, vi rimando ai corsi di formazione di trading, ma soprattutto alla scelta della lettura di libri, eccetera. Non vi fate scappare questa opportunità. Io ve ne sto parlando da otto mesi, ho riperto una mia Academy qualche mese fa, proprio per dare a tutti la possibilità di accedere ai nuovi contenuti, quelli creati sulle altcoin, soprattutto, che stanno andando già una bomba, sono cifre stellari anche sul portafoglio. Poi vi porterò comunque un video con tutte le analisi, ma soprattutto formatevi, se non siete ancora in grado di fare queste cose, non pensate che sia semplice, formatevi prima, non sono consigli finanziari comunque. E questo è importantissimo. Allora, questo è un primo step. Ancora abbiamo bisogno del secondo step. Il superamento di queste due medie è ancora una volta molto rilevante, ma le due medie in questione sono più legate al time frame di natura. Weekly, questo time frame è ancora, guardate un po', ragazzi, lontanissimo da una inversione. In più, ci sono due dati fondamentali. Questi tipi di app contro Bitcoin, Ethereum li ha già fatti, e non una volta, li ha fatti diverse volte. Li ha fatti da gennaio del 2024, ogni 120-180 giorni. Quindi ogni tot di giorni, ragazzi, guardate un po'. Qui abbiamo avuto gennaio più 17% e poi boom. Poi abbiamo avuto questo che era potentissimo a maggio, più 20% e nulla da fare. Boom. Qui siamo di nuovo a più 13% e anche contenuto rispetto ai precedenti e poi questo è il vero interrogativo. Basta questo rialzo a cambiare tutti questi e tre movimenti. Uno, due e tre. Questo sarà il terzo di movimenti simili. Oppure no. Questo sarà tutto da vedere. Non vi sto dicendo che Ethereum crollerà, non è quello il concetto. Il concetto è che può essere, anche se fa una roba del genere, Bitcoin salga ancora di più di ETH. Quello è il discorso. Quindi il rapporto di forza da Ethereum e Bitcoin resterebbe ancora in trend laterale o ribassista. Quindi non conviene sguicciare da Bitcoin a Ethereum, conviene tenere sempre Bitcoin, sia per un discorso di natura, di liquidità, sia per una maggiore sicurezza in termini anche di volatilità, perché Ethereum è più volatile di Bitcoin. Quindi se questo trend che vedete su questo grafico non sguiccia e diventa rialzista, non ha molto senso sguicciare su Ethereum. Allora, questo è un grafico ancora in trend ribassista. Dove avverrà il reale change di trend di questo grafico? Dobbiamo assistere a una roba del genere. Il break di queste due mediamobili e di questa trendline che discende in pratica, vedo a lungo sul grafico direttamente, facciamo così, dovrebbe essere possibile, se non erro, ok, eccolo qui. Allora, questo superamento sarà l'ABC, però, dal mio punto di vista, la soluzione principale a livello tecnico-operativo da trader sarà assistere nelle prossime settimane ad un'eventuale fase di rimbalzo ancora più alta e secondo me questo può avvenire anche la prossima settimana e poi il consolidamento contro Bitcoin. Io voglio vedere una barra di congestione. Vorrei vedere una barra di congestione nei prossimi mesi fino anche alla fine dell'anno, eccetera, per poi assistere a un breakout di questo tipo e questo costrutto, screenshot ragazzi, screenshot su questo costrutto vi darà il là per lo switch. Se avviene una roba del genere lo faremo tutti insieme, ovviamente, andremo a switchare. Io non switcherò mai tutti i miei Bitcoin, ovviamente, ma una parte su ETH, quella ovviamente dedita alla questione legata al trading e alla speculazione che ovviamente fa parte anche di questo canale. Allora, per quanto riguarda anche il livello ciclico, chiudiamo il video e poi vi do una news importantissima, ragazzi, anzi, fatemi sapere un'altra cosa. Io vorrei creare un canale Discord per questa fase di alt-season molto open, aperto, ovviamente, a tutti, dove andremo a ragionare su alcune cose relative appunto alle strategie di trading, all'analisi, eccetera. questo canale Discord ovviamente avrà, per, diciamo, essere ammessi, avrà determinati step e determinati requisiti, ci saranno, ragazzi, perché altrimenti diventa un marasma, però non vorrei farlo a pagamento, vi dico francamente, l'Academy c'è già, quindi sarà un canale Discord destinato solo al season attuale, con alcuni criteri di ingresso per gli utenti che vedremo insieme. fatemi sapere se vi interessa lasciandomi un commento con il vostro interesse per esempio a questo progetto, così valuto anche un po' se ha senso o meno fare una cosa del genere perché interessa un po' a tutti quanti voi. Passiamo alla questione legata all'analisi ciclica, analisi ciclica 882 giorni di ribasso da questa zona pari a circa due cicli annuali, questo è un biannuale, qui l'analisi ciclica ci dice che siamo in aria, non è qui la settimana ma è qui a livello di orizzonte temporale che può andare anche nei primi mesi del 2025 perché è un biannuale ragazzi, ok? Però quest'aria a livello di analisi ciclica è assolutamente sufficiente a dettare un'inversione di trend di un biannuale quindi a far partire un nuovo ciclo Ethereum Bitcoin della durata anche di due anni, ciò significa che avrebbe molta forza e che finalmente riuscirebbe magari ad invertire quel trend che abbiamo visto iniziare dai massimi in pratica di dicembre 2021 ma sostanzialmente da questa zona. In più, vi dico già da un po' di tempo questo ciclo di due anni si va a sposare anche con la logica di avere una ciclicità di ETH di natura quadriennale è un po' lungo rispetto ai precedenti quindi c'è stata sicuramente un'anomalia anomalia che può essere anche indicativa di questa struttura ciclica annuale da 300 giorni corta che può essere una lingua di buyer quindi un'anomalia ciclica però in sostanza il messaggio che voglio farvi passare è che a livello di analisi ciclica una ripartenza che può essere sostenuta di Ethereum contro Bitcoin per i prossimi mesi sei mesi magari anche otto di forza maggiore di ETH contro Bitcoin è giustificata anche a livello ciclico e questo non è importante è stra importante ragazzi è molto importante perché i segnali di analisi tecnica che hanno una base un filtro di natura ciclica sono molto più promettenti quindi monitoreremo anche questo grafico Ethereum Bitcoin è solo l'inizio di una fase di un boom epocale cosa ne pensate danno nei commenti e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ragazzi